È stato presentato presso l'auditorium di Altavilla Silentina il libro di Fausto Bolinesi Polli, pazienti e cittadini. Nella pubblicazione l'autore racconta la sua trentennale esperienza di medico, tante storie di vita reale vissute accanto ai propri pazienti, ma anche l'amarezza di una professione diventata via via sempre più burocratica e meno umana. All'incontro, moderato da Laura Guerra, ha presenziato l'editore Francesco Florenzano, il sindaco di Altavilla Silentina Francesco Cembalo e l'autore del disegno di copertina, il maestro Alfonso Mangone. In fondo forse è il desiderio di stare ancora a contatto con i pazienti, in mezzo ai miei pazienti, perché dopo decenni di trascorsi nelle loro case, nelle loro storie, nelle loro vite, non me la sentivo di abbandonare, quindi ho continuato a stare con loro, era un modo per continuare a stare con loro. Questa produzione continuerà? E quali saranno gli altri argomenti che toccherai? Se continuerà, lo deciderà il pubblico, vedremo anche da questa sera. Per la verità, a giudicare dall'inizio potrebbe continuare, dovrebbe continuare. E poi gli argomenti probabilmente saranno sempre gli stessi, perché io fondamentalmente mi diverto a scrivere, quindi tento sempre a fare racconti ironici, umoristici. Polli, pazienti e cittadini è il titolo dell'opera prima di un medico che si è trasformato in scrittura. Noi che lo conosciamo sappiamo già che era un romanziere nato, quindi non siamo sorpresi. Ne parliamo con Franco Florenzano, che è il suo editore, che pure lo conosce da tempo. Certamente, quando Fausto Bolinesi mi ha cercato per avere anche un consiglio su questo libro, obiettivamente mi sono chiesto, ma come scrivi i racconti, non fai il medico. Poi mi ha mandato uno dei racconti e ho visto la sua scrittura piana, ha anche, diciamo la verità, la sua ironia e forse anche la sua amarezza in determinati racconti. Quindi mi sono appassionato e siccome ho una casa editrice del 1993, siamo oltre 500 titoli, abbiamo iniziato da poco la narrativa, perché non avevamo narrativa e allora è stata un'occasione straordinaria e questo libro tra l'altro sta andando molto molto bene a livello nazionale. Il tema ricorrente del libro di Bolinesi, noi che l'abbiamo avuto come medico, forse possiamo anche intuirlo, soprattutto nell'ultima fase, che era quella della contestazione della medicina diventata burocrazia, che si era allontanata dai pazienti. Ma questo è proprio il tema del sogno, anzi l'incubo che lui racconta con Polli, pazienti e cittadini. Però il tema ricorrente di tutti i racconti è la grande capacità di Fausto, perché lui specifica che tutti lo chiamano con il nome e non con il cognome, la grande capacità relazionale, la grande capacità di dialogo con le persone, di comprensione, di accoglienza. Io credo che questo sia il vero tema ricorrente della scrittura di Fausto Bolinesi. Presentazione del libro di Fausto Bolinesi, Polli, pazienti e cittadini. Ne parliamo con il sindaco di Altevilla, Franco Cembalo, che è amico e collega dell'autore del libro. La curiosità sarebbe di capire quando il sindaco Cembalo scriverà un suo libro. Scrivere un libro non credo di farlo, perché non sono uno scrittore come te oppure come Fausto. Fausto ha fatto forse una memoria su questo libro. In questi racconti di Fausto mi ci rivedo in molti racconti di loro, perché facendo lo stesso mestiere, abbiamo gli stessi problemi, lui li ha avuti, io gli ho gli stessi problemi. Fausto per me è stato un amico trentennale, quindi da quando ha iniziato a lavorare ad Altavilla, che ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati, è stato il mio medico di base e continua ad essere il mio carissimo amico. Ci sentiamo quasi tutti i giorni per qualsiasi problema che possiamo avere. Io mi confronto con lui e lui si è confronto con me ancora a livello medico. Un tema di Fausto Buonese è questo della burocratizzazione della professione sanitaria. Cioè la professione del medico viene un po' snaturata dai tanti obblighi di tipo burocratico che lo Stato pone. Tu da medico come vive lo stesso problema? Non posso che dare ragione a Fausto. Fausto ha raccontato magnificamente il suo sogno che ha fatto parlando con Dio, quindi per questo mi ci ritrovo effettivamente, perché la burocratizzazione nella sanità è una cosa assurda. Mi dicevano i miei professori basta che le carte stanno a posto non c'è problema. Invece purtroppo ogni giorno continua ad arrivare circolare dalla regione, dall'ASL, dal distretto e noi siamo continuamente impegnati a leggere le carte, quindi leggiamo più carte che visitiamo i pazienti. Adesso io siccome sto in buonese al corso hanno messo addirittura la firma digitale nei referti di buonese al corso, quindi siamo al massimo della burocratizzazione.